Dimmi, che cos'è che fa ombra? L'assa della meridiana. Come? Non è il sole? Sì, anche il sole. E poi tutte e due ci indicano l'ora. Eppure, come puoi benissimo vedere, la meridiana non si oppone al sole. Non sconfigge la sua luce. Maestro, ora non capisco. Come parecchie cose che mi insegnate, è una contraddizione. Lancia la freccia. Cos'è che porta il bersaglio? La freccia o l'arco? La freccia, una volta lanciata, non ha scelta. Deve colpire il bersaglio. Tuttavia, senza la freccia, l'arco è una vuota promessa di guerra. Guerra. Maestro, maestro. È ancora difficile. Quando devi scegliere tra due cose buone o tra due mali, stai avendo, non cercare la risposta. E sai già nelle cose. Non angustiarti. Perché dopo la notte il sole torna a scaldare. Non agçu, èBS né nenosmenteale. Chi ne va eccedere tra due mali, oppure come nel intero. E lei si trova a scaldare. Chape.